e abbiamo appunto più del 50% del fatturato è arrivato proprio da Flavio sicuramente penso che sia veramente interessante Benvenuto o benvenuta in questo video oggi parliamo dell'email marketing quindi dell'importanza di raccogliere dei contatti e di farlo bene con i propri e-commerce io sono Fabio Lacognata e sono e-commerce specialist presso Scuola e-commerce e imprenditore perché comunque ho un mio e-commerce di proprietà e con questo appunto ti faccio vedere come lavoriamo noi per fare in modo che le persone ci lasciano le email per capitalizzare i risultati sì perché oggi sempre di più i costi pubblicitari come sicuramente sai soprattutto se sei operativo cioè se stai vendendo comunque se stai facendo delle campagne i costi pubblicitari sono sempre più alti quindi quello che è necessario fare ed è fondamentale è quello di impostare una strategia per massimizzare le visite sul proprio sito ok quindi cosa possiamo fare una delle cose più importanti è mettere un pop-up funzionante attraente nel proprio e-commerce in modo tale che le persone appunto in base diciamo a quello che poi noi gli proponiamo riusciamo ad avere la loro email e quindi avere la possibilità di rimetterci in contatto con loro senza la necessità di reinvestire in pubblicità e quindi diciamo facendo in modo che li possiamo ricontattare con un costo più basso anzi un costo quasi vicino allo zero perché l'unica cosa che dovrai pagare è servizio di email marketing ok adesso andiamo a vedere nello specifico come si imposta che cosa si fa e come facciamo appunto a renderlo più attraente possibile e poi ti faccio vedere alla fine nella parte finale quali risultati ci dà l'utilizzo della newsletter in modo adeguato ok quindi questo è il nostro pop-up il pop-up appunto di Bottega Sicana dove praticamente abbiamo impostato un sistema dove diamo alle persone uno sconto in questo caso il 10% e gli diciamo che comunque nel momento in cui ci lascia il nome e la propria email lo informeremo su offerte e novità sulle nostre specialità alimentari visto che appunto vendiamo quelle considera sempre che una persona che arriva sul tuo sito può arrivare da canali diversi quindi da canali a pagamento soprattutto se all'inizio il canale a pagamento è praticamente quello la strada più rapida è comunque quella che ti può portare da subito dei risultati oppure attraverso ricerca organica quindi attraverso posizionamento sul motore di ricerca oppure diciamo altri canali che possono essere altri siti linkati al tuo oppure appunto la stessa email marketing questo pop up è impostato per tutte quelle persone che arrivano sul sito ma non sono iscritte alla newsletter quindi questa è la prima cosa da sapere che il target è relativo a tutte le persone che visitano il sito ma non sono ancora iscritti quindi quello che dobbiamo fare ovviamente è fare in modo che loro ci lasciano la loro email considera ovviamente che non sarebbe utile far vedere anche a chi è già iscritto perché altrimenti comunque vedrebbero uno sconto di cui non possono soffrirne e quindi sicuramente non è il massimo l'impostazione è fatta in questo modo praticamente tutte le persone che arrivano dopo 30 secondi dalla navigazione gli appare questo pop up perché 30 secondi? perché se noi gli proponiamo il pop up immediatamente stiamo disturbando la navigazione dell'utente perché se questa persona è venuta sul nostro sito è perché probabilmente ha interesse a vedere di cosa si tratta se è un prodotto o un page in base dal canale in cui è arrivato quindi nel momento in cui noi gli diamo la possibilità di iniziare a vedere nello specifico quello per cui è arrivato sul sito in qualche modo stiamo creando rapport e non stiamo interrompendo la navigazione se dopo un po' di secondi invece gli facciamo vedere questa possibilità gli diciamo guarda visto che sei interessato e ti sei trattenuto un pochino sul nostro sito ti diamo anche la possibilità se ci lasci la tua email di ricevere uno sconto che potrai utilizzare immediatamente oppure anche in un secondo momento ok? quindi questa un po' è la nostra impostazione poi abbiamo anche un altro pop up che lo mettiamo in uscita cioè le persone quando cercano di uscire dal sito quindi per dire spostano il mouse in alto e praticamente significa che stanno andando ad aprire un'altra scheda di google chrome nel caso in cui appunto stiano usando google chrome allora gli appare questo pop up e gli dice una cosa diversa però ovviamente con lo stesso risultato quindi quello di richiedere l'email e fare in modo appunto che noi acquisiamo il contatto ti faccio vedere un po' di statistiche che sono molto interessanti qui andiamo a vedere le statistiche sugli ultimi 30 giorni in pratica negli ultimi 30 giorni come vedi qua sono divise per giorno e abbiamo praticamente delle colorazioni diverse come vedi dove c'è scritto views abbiamo praticamente 1280 visualizzazioni 33 persone che hanno deciso di lasciare la propria mail e poi abbiamo la percentuale che si sono iscritti quindi il 2,58% ok poi abbiamo ovviamente dei periodi in cui siamo andati un po' più forti soprattutto a dicembre perché abbiamo aumentato considerabilmente l'investimento pubblicitario e quindi come vedi appunto sono cambiate qua le cifre abbiamo qui per esempio l'8 dicembre 57 persone appunto che si sono iscritti alla newsletter in questo modo noi appunto cosa facciamo facciamo le campagne pubblicitarie ok facciamo ovviamente abbiamo anche altri canali dove le persone arrivano e vanno a visitare il nostro sito se non sono iscritti alla newsletter gli appare pop up quindi alcuni di loro appunto decidono di lasciare la propria mail e quindi ce li ritroviamo nel nostro database ok noi potremmo praticamente fare come alcuni fanno e probabilmente anche questa è una buona strategia potremmo pensare di fare delle campagne specifiche per acquisire contatti ok in questo caso però noi non le abbiamo fatte però cosa facciamo facciamo delle campagne con obiettivo comunque vendita oppure aggiunta al carrello dipende appunto dalla strategia e a quel punto le persone comunque se non sono iscritte vedono il pop up e magari si iscrivono quindi praticamente potremmo fare una vendita e contemporaneamente potremmo anche incassare di mail quindi abbiamo un doppio risultato per questo è fondamentale quindi negli ultimi 30 giorni hanno visto il pop up quasi 40.000 persone e abbiamo preso 1000 email questo ovviamente è un lavoro appunto vitale e perché è vitale lo vedremo tra poco prima di vedere appunto i risultati che noi abbiamo con la gestione appunto della nostra newsletter ti voglio far vedere l'altro pop up le statistiche dell'altro pop up questo è il pop up di uscita quello che appunto appare nel momento in cui una persona cerca di cambiare scheda allora qui abbiamo andiamo a vedere sempre gli ultimi 30 giorni ai 1000 contatti che abbiamo preso con l'altro pop up con quest'altro se ne aggiungono altri 134 che onestamente male non fanno quindi insomma questo è quello che ti può dare appunto un pop up fatto bene e si è posizionato nel momento giusto dove gli dai appunto qualcosa in cambio fatto tutto diciamo nel modo migliore possibile e diciamo abbiamo appunto un risultato sicuramente interessante adesso prima di chiudere volevo farti vedere appunto che cosa porta tutto questo ti faccio vedere due cose prima ti faccio vedere delle campagne che sono state appunto fatte in questi ultimi due mesi dove praticamente qua vedrai i risultati per dire questa spedita il 2 dicembre una sola campagna praticamente ha portato 1600 euro poi abbiamo addirittura questa fatta l'ultimo giorno del black friday con 3700 euro e tutti questi campagni tutte queste mail che noi abbiamo fatto praticamente sono arrivate gratuitamente nel senso che i contatti sono arrivati perché abbiamo fatto delle campagne a pagamento ma le vendite sono state fatte da contatti che comunque già abbiamo acquisito se non avessimo creato il pop up e gestito tutto quello che c'è dietro nelle impostazioni sicuramente non avremmo raggiunto questo tipo di risultato ok ti faccio vedere anche in termini assoluti cosa è successo negli ultimi nel mese di novembre in questo caso ok noi abbiamo fatto 63.000 euro di vendite che sono quelli che ha tracciato Clavio in realtà c'è qualcosa in più rispetto a quello che vedi qua e poi qua abbiamo che il 35.000 euro è arrivato attraverso Clavio perché nel mese di novembre noi abbiamo sfruttato tantissimo la lista mandando tante newsletter a chi ha già acquistato da noi quindi praticamente c'è una percentuale molto elevata e abbiamo appunto più del 50% del fatturato è arrivato proprio da Clavio sicuramente penso che sia veramente interessante quindi qui abbiamo 5.000 euro dedicati appunto arrivano dai flow quindi dai flussi automatici che poi magari vedremo in un altro video e poi qui abbiamo i 30.000 euro sono arrivati appunto dalle campagne che sono quelle che abbiamo visto prima quindi campagne fatte non a casaccio tutte le campagne sono state impostate in base a delle azioni specifiche che fanno gli utenti quindi se ci sono dei clienti che acquistano normalmente una linea di prodotto noi mandiamo newsletter specifiche per quella tipologia di persone ok? non mandiamo il newsletter uguale a tutti perché questo è un grande rischio e si finisce veramente per poi far stancare le persone e lasciare appunto abbandonare la lista quindi praticamente cancellarsi dalla lista quindi noi perdiamo un potenziale cliente o magari già un cliente però se lo stanchiamo con email di cose che non gli interessano magari decide di si iscriversi dalla lista quindi questo è quanto credo che tu abbia capito l'importanza di creare un pop up fatto bene di impostarlo quindi di settarlo nel modo giusto e una volta che hai fatto tutto questo piano piano man mano che ricevi i contatti che gestisci diciamo i tuoi clienti nel migliore dei modi alla fine potrai avere dei risultati importanti una cosa che non ti ho detto noi utilizziamo come software Clavio che è sicuramente uno dei migliori in assoluto da abbinare con Shopify perché sono integrabili si possono gestire facilmente ti consiglio di dargli un occhio se vuoi diciamo possiamo ovviamente darti più informazioni possibili basta che tu ci iscriva qui iscriviti comunque al nostro canale e avrai appunto tanti video tante informazioni sull'e-commerce perché noi siamo quelli che prima facciamo le cose e poi dopo le dimostriamo con i fatti ti saluto e ci vediamo nel prossimo video iscriviti al nostro canale